Grande Juventus a Londra. La rimonta sul campo del Chelsea, campione d'Europa, non assicura ai bianconeri la vittoria, ma il 2-2 dello Stanford Bridge nella notte del ritorno in Champions ha un valore anche superiore. Blues avanti con una doppietta del gioiellino brasiliano Oscar. Fantastico il secondo gol, poi la rimonta bianconera con Vidal e Quagliarella nel finale. La soddisfazione del tecnico juventino Massimo Carrera. Sì, sicuramente abbiamo preso il primo gol che eravamo in dieci quando Arturo era fuori perché si era fatto male. Il secondo gol è stato un capolavoro di Oscar, però noi abbiamo sempre fatto la nostra partita, abbiamo tenuto fino alla fine, condizione atletica strepitosa, abbiamo pareggiato meritatamente. Non abbiamo subito tantissimo, anche noi nel primo tempo abbiamo avuto occasione per far gol. Quindi niente, in intervallo ho detto di stare tranquilli, di giocare la partita e di giocare come sappiamo e di aumentare e di alzare un po' il ritmo. Però quello non c'era bisogno perché la squadra stava già facendo bene, non ero tranquillo per quello. Grazie.